l'obiettivo è nella stanzetta dove ci nascondiamo sempre noi mappa di merda capisco perché non è stata classifica l'esprato della mano ed è morto attività nemica neutralizzate la minaccia dimenticatevi del contenitore tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia ultimo nemico rimasto attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia ultimo uomo per la squadra alleata difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore il nemico di prendere il contenitore squadra d'attacco eliminata missione completata la minaccia ultimo uomo per la squadra la minaccia ultimo uomo per la squadra